bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video dovevo registrare poco fa ma non ho fatto in tempo ragazzi perché stavo facendo un'operazione di trading intraday con la mia trading on academy appena chiusa in questo momento sono quasi le 3 di oggi pomeriggio e abbiamo fatto un profitto intorno al 6% in real time nella mia trading on academy ragazzi perché questa mattina il mercato ha dato questa possibilità al mercato delle criptovalute mi riferisco a bitcoin quindi in academy abbiamo fatto proprio in real time questa operazione e ho perso un'oretta circa ragazzi abbiamo fatto questo splendido profitto e sono euforico oggi non ve lo nascondo sono molto contento per aver diciamo sistemato questa cosa perché un 6% in un'ora ragazzi non è per niente da buon soprattutto in questo periodo quindi contentissimo anche perché il mercato sta dando una serie di occasioni in questo momento abbastanza rilevanti dovuti alla volatilità ma torniamo a noi intanto ritorniamo alla nostra programmazione standard oggi facciamo le analisi ciclica l'analisi tecnica sui mercati delle criptovalute ma guarderò soprattutto bitcoin perché negli ultimi dieci giorni due settimane circa è cambiato tutto il mondo ragazzi posso assolutamente affermare questa frase perché stanno cambiando delle cose importantissime nell'economia e nella finanza internazionale ma anche nella nostra vita quotidiana ovviamente in questo video non parlerò della situazione italiana estremamente delicata è quello che si sta vivendo al nord è assolutamente un qualcosa di purtroppo terribile ragazzi però oggi parliamo di grafici perché ho fatto altri video tal proposito e quindi oggi parliamo esclusivamente di trading prima di andare però a guardare quello che ho da dirvi oggi sull'analisi ciclica dei mercati delle criptovalute che è cambiata ragazzi assolutamente cambiata e purtroppo vi faccio uno spoiler non è cambiata nella maniera positiva ma sta abbracciando una delle tre view che io avevo già sviluppato più di un mese fa con un webinar gigantesco che ho fatto per gli utenti iscritti sempre all'academy ragazzi a cui avevo già accennato la possibilità che il mercato andasse a fare questo tipo di atteggiamento e in effetti sembrerebbe confermarlo nei in questi ultimi giorni prima però di andare a vedere questa cosa che guarderemo oggi insieme una parte di questa idea vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ma soprattutto ragazzi lasciatemi un mi piace perché mi aiutate molto con youtube per il grande lavoro che sto facendo io sono in quarantena un po come tutta italia quindi sto facendo tantissimi video spero di dare a tutti la possibilità quindi di lenire quelle che sono magari alcune problematiche di panico in questo momento andiamo sui grafici basta parlare ragazzi oggi sono contento per la mia operazione di trading però andiamo a guardare la situazione un sacco di cose da dirvi allora ragazzi qual è la situazione guarderemo due grafici tanto ve lo indico già direttamente guarderemo due grafici uno è il grafico di bitcoin con una view ciclica particolare l'altro è il grafico di ethereum con una view ciclica differente che però va assolutamente valutata ragazzi in questo momento solo un'analisi ciclica ragazzi in questo momento può darci una idea di quello che sta succedendo perché l'analisi tecnica in questo momento lascia il tempo che trova per una serie di motivi oggi insomma non riesco a spiegare tutto sarebbe troppo complicato allora andiamo a capire cosa è successo su bitcoin ragazzi allora su bitcoin ci aspettavamo la chiusura di un ciclo mensile il ai primi di marzo fatta sembrerebbe ma questo ciclo così che abbiamo visto è andato a crashare immediatamente facendo il più grande ribasso della storia degli ultimi anni di bitcoin quindi una catastrofe ragazzi chi non pensa a una cosa del genere chi non ha capito che quello che è successo qui in questa giornata è stata una catastrofe che ha cambiato radicalmente tutti i prossimi mesi a venire da un punto di vista di gestione delle posizioni sulle criptovalute di quello che è il futuro di questo mercato per quest'anno 2020 non ha capito quello che è successo quella giornata fatidica e che resterà nella storia del 12 marzo ragazzi conclusa poi in nottata quando c'è stato un giugno io ero live ragazzi ero live alle 3 del mattino mi ricordo a vedere questo crash gustandolo in questo modo io sono ancora old ragazzi non ho venduto i miei bitcoin quindi ovviamente perdevo sulla parte holding e la parte invece di trading no perché la parte di trading era già uscita ed era in flat diciamo in usd però ragazzi questa fase questo ribasso ha cambiato tutta quella che è la struttura ciclica anche probabilmente del ciclo annuale magari faremo un altro video su questa cosa perché è veramente troppe cose da guardare ragazzi allora intanto se questo ciclo mensile è stato concluso qui dalla l'uno di gennaio in poi è iniziato un nuovo ciclo mensile che è totalmente ribassista ovviamente e che dovrebbe concludersi intorno alla fine del mese di marzo di solito i cicli estremamente ribassisti come questo che sono veramente un ribasso incredibile si accorciano molto ragazzi quindi io potrei anche diciamo dire che magari arriviamo a chiuderlo qui e poi c'è un'altra conclusione da fare un'altra cosa da fare se questo ciclo mensile che è anomalo insomma ha una figura leggermente anomala ragazzi quindi non mi piace tantissimo e sono molto dubbioso su questa cosa quindi dovremmo attendere un po' per capire questa fase che cosa ci riserva un pochettino dobbiamo dare al mercato la possibilità di svilupparsi perché ragazzi queste due candele di queste giornate che hanno fatto poi il minimo addirittura qui lo segna a 4000 in realtà però ragazzi è più basso perché in real time mi ricordo che siamo scesi anche di più comunque evidentemente sono stati prezzi cancellati come visti come errori però queste due giornate hanno modificato un po' tutta la ciclicità quindi non sappiamo se questo mensile effettivamente è iniziato qui insomma ha confuso tutte le acque solitamente quando un mercato scende così velocemente chiude un ciclo maggiore qui però ragazzi c'è un problema di fondo che il ciclo maggiore era stato chiuso qui il 18 dicembre quindi è un po' allora o qui abbiamo una famosa figura ciclica di anomalia che viene identificata come lingua di buyer su cicli ampi in questo caso un biannuale un scusate un annuale oppure ragazzi tutta l'annuale è ribassista io al momento sposo la view dell'annuale ribassista perché ragazzi perché è la più semplice c'è un principio che si chiama quello del rasoio di hocam ragazzi che è un principio semplice una regola matematica una regola stupida se vogliamo però anche semplice che dice che le cose più semplici sono in effetti poi quelle che si verificano per la stragrande maggioranza delle volte come probabilità quindi io al momento ragazzi prediligo la soluzione più semplice ma tengo un occhio all'ipotesi che questa figura possa essere stata un'anomalia ciclica anche vista la particolarità del momento quindi non lo escludiamo però io al momento mi indirizzo con la mia attività di trading che cambia radicalmente perché un annuale ribassista ci porta all'idea che l'anno 2020 sia estremamente difficile da vivere quindi per gli holder sarà estremamente complesso e per i trader potrebbe essere invece molto profittevole perché come appunto poco fa abbiamo fatto 6 punti percentuali in neanche un'ora perché ragazzi perché la volatilità aumenta in cicli così e dà la possibilità ai trader di fare un po' più di operazioni però sappiamo che il trading è estremamente complesso insomma quindi dovete essere formati per fare queste cose però resta ancora la possibilità che magari il ciclo annuale abbia fatto un fake qui e si sia chiuso in questo punto se questa cosa è vera vedremo il mercato reagire in maniera assolutamente importante nei prossimi giorni quindi magari con rialzi che vanno sopra 8500 e quant'altro al momento ragazzi non c'è nulla di questo quindi il mercato non sta facendo niente di tutto ciò ha avuto un semplice balzo di reazione a fare un pull up su quella che era un'area importantissima di supporto tra 6500 e 7000 ragazzi lo vedete qui il pull up è stato evidente da parte di bitcoin perché è andato a fare questo minimo pull up boom ok ora cosa succede in questo caso cosa succede e non lo sappiamo ragazzi bisogna capire un po' l'andamento in questo momento non prediligo nessuna posizione di lungo periodo tranne quelle in hold se le avete ma le posizioni in hold ragazzi sotto i 3000 dollari vanno in stop loss ok quindi ricordatevi che una posizione in holding a stop loss proprio enormi ragazzi rispetto a una posizione di trading quindi valutatele queste cose va bene ognuno con la propria capacità di rischio è fondamentale mentre le posizioni di trading sono da giocare solo nel brevissimo periodo o attraverso trading system come quello ho fatto una live sabato ragazzi andatevela a vedere vediamo se vi metto il link sulla mia testa una live splendida dove spiego 5 regole fondamentali per impostare la vostra strategia di trading vi faccio vedere cosa ha fatto uno dei miei trading system la scorsa settimana e ha fatto il 30% in pochi giorni vi faccio vedere come l'ha gestita e come dovete ragionare voi per sviluppare una strategia con delle regole precise quindi guardate quella live ragazzi è molto molto bella per fare la sintesi e andare ad ethereum qual è la situazione? la situazione è attesa di un nuovo minimo ma magari non inferiore a questo ragazzi perché lo reputo ve lo dico chiaramente un fake valutare queste cose sul mercato delle criptovalute bisogna stare attenti perché il mercato delle criptovalute è estremamente volatile, manipolabile e tutto il resto quindi quando fa questi scroscioni ragazzi bisogna un po capire che il minimo vero a 4000 secondo me è un'esagerazione quindi io in questo momento vi dico la fase potrebbe mantenersi ancora negativa fino a fine marzo e questa fase dovrebbe essere la metà del ciclo che ha fatto questo suo rimbalzo e dopodiché dovremmo assistere ad una fase di riassorbimento e magari una barra di congestione questo è quello che io mi aspetto quindi un ritorno in sostanza intorno ai 5000 dollari cosa che comunque già oggi ragazzi poco fa prima del balzo era intorno ai 50006 quindi siamo lì ragazzi ok questo è quello che mi aspetto se dovesse andare a fare un nuovo minimo è possibile sì perché se il ciclo è giusto e quello che noi stiamo dicendo e stiamo vedendo in questo video è corretto da un punto di vista di forma ciclica ma ve lo ripeto è estremamente anomala quindi prendetela con le pinze in questo momento non mi sento di darvi una tra virgolette sicurezza sapete che le previsioni sono sempre ipotesi però in questo momento dobbiamo aspettare che il mercato diciamo ci faccia vedere le sue carte però la situazione in questo caso è quella di un'attesa di una fase di congestione laterale di bassista entro la fine del mese quindi questa settimana ragazzi vedremo se sarà così se non sarà così probabilmente il mercato sposerà questa più che quella di Ethereum su Ethereum c'è la possibilità che vedete si sia chiuso tutto qui ma potremmo indicarla come un mensile che non è stato chiuso appunto qui il 26 febbraio ma è stato chiuso qui quindi un mensile lunghissimo molto più lungo da 50 giorni invece dei soliti 40-37 è possibile? sì allora questa è l'unica view alternativa a quella che vi ho fatto vedere su Bitcoin quando il mercato svela le sue carte intanto vabbè è qui sul supporto ciclico quello che una volta era sul supporto ciclico adesso è diventata una resistenza e lo scriviamo come sempre facciamo quando sappiamo se questa view verrà sposata dal mercato se Ethereum sale qui ragazzi intorno ai 160-170 a questo punto la probabilità che qui si sia chiuso un ciclo e qui ne sia iniziato un altro completamente nuovo quindi un nuovo mensile un nuovo trimestrale e quel che sia è molto ampia ma solo se supera i 170 almeno ragazzi deve entrare qui deve andare qui va bene ragazzi in questa zona qual è il problema della situazione? che anche se questo minimo ha dato vita a una nuova fase ciclica come ad esempio un mensile quindi rendendo tutto anomalo in sostanza ma ci può stare con ribassi di questa portata per ora rimane questo problema ragazzi è un trimestrale chiamiamolo così che purtroppo è negativo se fa parte di un nuovo ciclo annuale ragazzi perché tendenzialmente così è a dicembre è iniziato un nuovo ciclo annuale e lo ha dimostrato anche con questo super balzo allora purtroppo ragazzi tutto l'anno 2020 sarà laterale ribassista lo so che non è bello però ragazzi il mercato docet come si vuol dire quindi noi dobbiamo stare a vedere quello che succederà attenzione alle posizioni in hold sulle criptovalute non esagerate ricordatevi sempre un bel money management questi sono strumenti estremamente rischiosi quindi valutateli in quanto tale io vi ringrazio di essere stati qui con me iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettetemi un mi piace chiaramente condividete il video nei commenti ditemi cosa ne pensate di questa view so che non è bellissima però ragazzi che possiamo fare alla fine vedremo magari il mercato cambierà le carte tra un po' staremo a guardare ciao a tutti